Nel recupero della terza giornata del girone di ritorno la Massese continua a vincere, batte 2-0 in Romagna Centro. Dieci giorni dopo Massese e Romagna Centro si ritrovano allo stadio degli Olivetti di Massa per disputare il recupero della terza giornata di ritorno. Tra i romagnoli titolari rispetto alla gara contro il Forcoli, Turci, Carnesecchi, Lombardini, Gavoci e Roccati, mentre tra i locali di Tazioli, reduci da quattro vittorie consecutive, formazione pressoché invariata rispetto a Fidenza, con Rosaia titolare in mezzo al campo e Menicagli nel ruolo di terzino sinistro al posto dell'infortunato Zambarda, arbitra per Rotti di Campobasso. Decisamente buono l'avvio di gara degli Apuani, più pimpanti e sempre pronti a raddoppiare sui portatori di palla avversari. La prima occasione della partita della Massese, al nono percussione di Vignali sulla corsia di destra, cross arretrato per Del Nero che ha tutto il tempo per calciare ma manca clamorosamente il bersaglio. La Massese gioca meglio e al diciannovesimo passa in vantaggio sul lancio di Rosaia, la difesa romagnola si dimentica di Falchini che di prima intenzione fredda Semprini. È la quinta rete nelle ultime cinque gare per l'attaccante arrivato in estate dal tutto cuoio. Il Romagna centro si rende pericoloso sugli sviluppi di una punizione di Roccati ma Tognoni non ha grossi problemi. Prima dell'intervallo Vignali, dopo una bella serpentina, dà solo l'illusione del gol trovando l'esterno della rete. Nella ripresa parte decisamente meglio il Romagna centro, più convinto e pericoloso. Al primo Roccati su assist di Gavoci mette alto da buona posizione. Due minuti dopo insistono gli ospiti pericolosi con un tiro dal limite di Lombardini che sfiora il palo. Al quindicesimo nuovamente pericoloso Lombardini che con un destro dalla distanza sfiora il sette. La Massese reagisce al diciannovesimo con Vignali che a tu per tu con Semprini non riesce a concludere. Cala alla distanza il Romagna centro e la Massese torna a rendersi insidiosa con una girata di Del Nero deviata in angolo da Semprini. Ed è dagli sviluppi di un calcio d'angolo di Del Nero che arriva il raddoppio a Puano ancora con Falchini che entra in doppia cifra. La Massese con questi tre punti scavalca i romagnoli del Mezzolara ed entra in zona playoff. Grazie a tutti!